Ciao ragazzi e benvenuti con noi insieme di Brazzo Crew E oggi siamo qui nella Two Touch Challenge Ragazzi in cosa consiste questa challenge? Ci sarà una persona invisibile che ci alzerà la palla e noi con le nostre skill Esempio? Esempio di skill? Vai 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 Giova Giova la skill Cogliamo l'occasione che oggi Brazzo non c'è per segnare Esattamente bravo, ma è Shosha E oggi ragazzi faremo gol a una persona che in realtà non è una persona ma è un cavallo Ogni gol un pomodoro E ragazzi arriviamo a un like per una prossima challenge sul campetto di calcio con gli Illuminati Cri... Andiamo con la sfida! Andiamo! Dove? A comandare Non si sentirà niente! Non si sentirà nulla! Roberto Carlos dei poveri! Roberto Carlos dei poveri! Goal! Non si vede! Dormi! 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 E' stato touch! E' ho cannato, ho cannato! Hai cannato? Minca dammene una! Dammene una, c'hai un polmone solo! Siamo al gol! Siamo al gol! Siamo al gol! Oh buon gol! Però la crossbar challenge era il video del video Non è una crossbar challenge E' il tiro zen! Siamo al gol! Buono! Camper! La tua scelta di fare il portiere rovinerà i nostri rapporti! Sappilo! Ancora! Fattemi provare la rovesciata! Mettila qua! Vai! Proviamoci! No! Aisha! Vai! Vai! No! Oh! Oh piano eh! Aspetta! Ah! Ciao ragazzi sono Mike Shosha il cugino di Stormi e adesso... Aspetta! 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 Bagger Mice! Ciao a tutti ragazzi sono Mike Shosha il cugino di Stormi... Ah! Ciao a tutti ragazzi... Parco 2 oh! Ha finito! Ciao a tutti ragazzi sono Mike Shosha il cugino di mio cugino e adesso prenderò la traversa! Ah no! Beh... Mi piacciono gli stalloni ma le puletre! Dai e poi per! Oh! 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 Ah! La coordinazione è quella di un zazza... Vai! Sul dischetto! Inzao! Oh! No! La rovesciata! Oh! Mi son fatto male dagli organi interni! Eh! Che ti dice? Oh! 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 Oddio! 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 oh oh la giornata ci ha battato ha tirato col cuore, col cuore ah oh senza buttarlo chiedete l'internet ah ciao sono dexter nel video di stormy ahahah che cazzo è è la intro ciao sono dexter nel video di stormy di nuovo ahahah ciao sono dexter nel video di stormy ahahah non ci vedo col caffè ciao sono dexter nel video non ci vedo niente dai dai fammi seguito iniziamo adesso ciao sono dexter nel video di stormy questo è il video di stormy e adesso segnerò prenderò la traversa il palo tutto di rovesciata pronti ahahahahah ma come io son basso questa la taglie lo faccio eh attenzione oh la salamella che cazzo è tirato vai secondo tiro sono dexter nel video di stormy finchè non entra challenge eh eh Ma che sta succedendo? Una tramutazione di Giampitech! Non sono siciliano che in te! Ma che è? Che c'è? E' rimasto il coglione! Spieghiamo il calcio! Si tirano ai tuoi piedi! Porca d'aria! Vai Giampi! Ma non di spada, di testa! Giampiero! Perchè? Perchè la stoppi con i punti spigolosi del tuo corpo? Perchè il cazzo? Carla Fracci, ci hai vedenti? Vai! Vai! Aaaaaaah! Ma perché? Ma la soglia sta loco alla bocca! Pettacca! 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 Oh! Pettacca! Chi è che fa questa volta dipendere la gamba dei jumping? Buonasera! Sono qui per fare una prestazione migliore di quella dei miei compagni precedentemente! Ciao, sono Dexter! Quasi incrocio! Vai! Oh, c***o! C***o la telecamera! Buona, buona! È in piedi stormy, ti ha montato al contrario, che c***o è? Ciao, sono Dexter nel piedi stormy! Come faccio? Vai, Giovanni, alasami la palla! Giorgio è fucilato, dobbiamo fargli il trattamento speciale! Ma perché direi col destro? Dai! guardalo ciao ragazzi bentornati ciao ragazzi no non è più un intro ragazzi ha vinto l'amore la giustizia, la fratellanza, lo sport la criou ciao sono Dexter e questo è il video di storia ragazzi ringrazio ragazzi ringrazio Ford City Trigoria per averci offerto questo campo e noi dove ci vediamo a casa tua dove ci vediamo dove ci vediamo partita questa dai l'abbrazo falla alla fine no ma la dico adesso ma che c'è bravo stai in un altro posto io non so fare questa testa alla spalla non parteciperò testa a spalla io non vedo niente è impossibile vai 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 raffica vai continua a te quelle che saltano guardare vai tranquillo oh piano eh Mettiti qua Giampia altrimenti non ci sono mai nel video vai sei pronto? no aspetta si è lanzata bene 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 tutto a cabrazzo dai faccio il volo io aspetta poi cambiamo pure l'indietro oh guardalo guardalo sta morendo contro il palco ok tutti a casa ragazzi dai bravi tutti vai Murri grazie